sia maschile che femminile nella nostra regione, si tiene infatti a Perugia l'importante torneo delle regioni con le rappresentative Umbre che sono partite subito lanciate, mettendo in fila, battendole tutte, Molise, Campania e Alto Adige, 4 vittorie, nessun set perso il bottino iniziale delle rappresentative Under 16 maschile e Under 15 femminile. Ora ad attendere le giovani ragasse saranno Lazio e Marche, Marche avversarie insieme con la Lombardia anche della rappresentativa giovanile maschile.